L'identità dell'Ucraina come popolazione e come nazione, assolutamente indipendente da qualsiasi gioco, a partire da quello prima sovietico, oggi di aggressione russa, è palese nel comportamento, nelle dichiarazioni, nei modi di essere. Ecco, quindi oggi la necessità di lavorare per accogliere gli ucraini profughi, il ragionamento che sempre più si fa è che arrivano in queste interminabili code al confine le famiglie ucraine, di qua dal confine viene la moglie e i figli, di là il padre che li ha accompagnati prende parte per combattere. È qualcosa di commovente, come è qualcosa di drammatico vedere i bombardamenti che abbiamo visto sulla televisione anche stanotte. E quindi dobbiamo essere davvero vicini a queste famiglie, saranno in prevalenza donne e bambini che arriveranno. Noi le accoglieremo negli alberghi sanitari. Ancora, diciamo così, il senso dell'accoglienza si è sviluppato nei paesi confinanti, e conseguentemente Polonia, conseguentemente la Romania. Non c'è ancora un vero e proprio arrivo di ucraini. Non ci dobbiamo aspettare una situazione tipo quella dell'Afghanistan, quando eravamo con i nostri aerei a organizzare l'arrivo e quindi ben a programmare. Ce li dobbiamo aspettare da un momento all'altro, perché magari arrivano con un pulma che chissà chi guida, con forme assolutamente non conosciute con cui arrivano qua, ma a quel momento dobbiamo essere pronti. E noi, utilizzando quelle strutture che avevamo fatto per l'isolamento dei malati di Covid, ma il Covid sta sempre più decrescendo e quindi non vi è questa utilità, le utilizzeremo per i profughi. Devo dire che sta scattando anche nella popolazione civile toscana un grande moto di solidarietà. In ogni città si sta organizzando il deposito per i viveri e i beni da portare in Ucraina. In ogni città vi sono ucraini, spesso in ruoli silenziosi, labbadante, che si è però fatta talmente benvolere che anche nella cerchia di persone e di famiglie amiche si offre l'appartamento. Finora, quando sono arrivati, non c'è stato bisogno di intervento pubblico. Gli ucraini, o per ricongiungimento familiare, o per ospitalità spontanea di famiglie, sono stati sistemati.